L'artista russa Anna Netrebko ha incantato il pubblico del Teatro Petrarca ad Arezzo con la sua splendida voce, un concerto previsto nel calendario organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo, che aveva suscitato non poche polemiche in città. L'artista è infatti considerata una sostenitrice del regime di Putin, posizione dalla quale la Netrebko ha sempre preso le distanze. Il 7 febbraio, giorno fissato originariamente per il concerto, c'era stata una manifestazione in Piazza Grande ad Arezzo contro la presenza dell'artista in città. Ieri nessun esponente della comunità ucraina a protestare, mentre sono apparsi alcuni cartelli a sostegno dell'artista. Il teatro era blindato con forze dell'ordine presenti in ogni angolo del resto. A pochi giorni dall'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, la soglia di attenzione è comprensibilmente alta, anche se si tratta di un appuntamento culturale. Grazie a Anna hanno scritto nei cartelli l'arte unisce e non discrimina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.